C'è stata una rapina al centro scommesso. Parti, cavolo, parti. Oh mamma mia, mi hai sbagliato mai. Passami la borsa, ti giuro che gli faccio un regalo all'Inse. Siamo... ...mi... ...chi! Voglio quei figli di puttana che hanno rapinato il mio centro scommesso e prima che il disco solare scompaia. Don Calogero ci può dare un orario più preciso. È arrivato il nuovo commissario. Premissio, tu sei... Gianni. Ah, Gianni è il cognome. Eppure il nome. Gianni Gianni? No, solo un Gianni. Dobbiamo catturare Don Calogero e la sua banda. Chi si sono muette proprio? Questi erano un direttore e un capovillaggio. Ci possiamo andare al posto loro? Siamo il nuovo direttore e il nuovo capo qualcosa. Leggo qui che fa parapendio, paracodudismo, sub. Sei un fenomeno. Fermi tutti! Giùppo e biscottino! Sei morto! Ah, sono Gianni! Ricordatevi che siamo... Mela, su chi? Un pugno di amici. Noi all'estero diciamo in un modo diverso. Si complicà l'ombrellone. Sì, tu fa il biscottino!